Ci troviamo nella fantastica Gold Coast, tappa obbligatoria per chi, come noi, ha intenzione di visitare la East Coast Australiana. Una città ricca di intrattenimento, surf e tanto altro. Una passeggiata veloce, un po' di shopping e continuiamo il nostro road trip. La nostra prossima meta? La capitale del Queensland, Brisbane. Così come il City Circle Tram offre un servizio gratuito per visitare Melbourne, Brisbane ha il City Hopper, un traghetto gratuito per attraversare il fiume e raggiungere il centro città. Anche qui, intrattenimento e shopping non mancano. Ci lasciamo trasportare dalla musica degli artisti di strada e facciamo un veloce tour della città. Ed eccola qui, per noi, una delle attrazioni più particolari di Brisbane, la Street Beach, una spiaggia artificiale nel cuore del centro cittadino. Non perdiamo l'occasione per un bel bagno. L'ultima tappa prima di ripartire è Wellington Point, che ci permette di raccogliere un po' di conchiglie lungo una lingua di sabbia collegata a un isolotto. Questo è possibile solo quando vi è la bassa marea. Per sapere esattamente gli orari di bassa e alta marea, basta consultare il sito che vi lasciamo in descrizione. Raccogliete qualche conchiglia e portate via con voi un pezzo dell'Australia. Grazie a tutti! Grazie a tutti!